chicco milano ancora ci sorprende una volta con la nuova collezione natalizia che è come sapete in anticipo la holiday premiere una collezione wow 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 davvero incredibile e la vedrete più nel dettaglio in questo video buonissimo vero buonissimo ma questa cosa è la collezione natalizia qui abbiamo questi smaltini dal finish letterato qua invece stiamo provando questa palette con 12 ombretti dal finish matte e metallico però come si sfumisce wow che bella quello che ho su io bello con grigio ma cosa ti sei messa te questo? io ho messo questo mischietto con questa palette qua bellissimo qual è il rosa? eh bravo non c'è la scelta di ragione perché si è asciuti bagnati e hanno... una scala ma questa cosa è? è volumizzante? esatto il filmante bello wow sono perlati qua invece mi sto facendo vedere questi stupendi rossetti super scintillante e metallizzati che secondo me meritano moltissimo essere acquistati sia per il packaging sia per i colori la parte del gloss questo è quello che ho io il colore è pienissimo ma sono matte come... no sono colorati sì matte, colorato, lucida cioè la parte... e lucida Laura Laminosa esatto arreghito con un aroma di vaniglia wow bello molto bello il colore bello questo colore qua mi fa il pazzire bellissimo ah, sai che non hanno... sono colorati ma idratanti ecco sì, sono più morbidi morbidi, ok tipo balsamo sono esatto idratanti notte arancia e zenzero belli belli questi sono oli o gloss olio e hanno la cene fresca, rinfrescante nutriente nutriente e rinfrescante esatto abbiamo... morbidissimo sono poi leggermente naturalizzati vedete dal tono ah, sì vero che belli madonna santa che bello che è questo e questo è un balsamo un balsamo un balsamo che bello wow una titte dope con colori nuovi esatto il marrone ma sono tutti nuovi o... ma il marrone e questi colori sono più o meno sempre i... sempre più o meno gli stessi classici è questo colore che è nuovo che è meraviglioso questo è un colore nuovo anche ok occhi verdi è più passati ma questo è un marrone no un ramato ah che bello un brugne ramato bellissimo sì questo è un grigio però non è nuovo è un grigio blu sì anche nuovo questo con l'argento bello sono anche lunga durata non transfer bene e il nero il nero con dorato sicuramente sì è un argento dorato belli 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 una parte in polvere e l'altra matte mmm carini con l'applicatore si chiude e si ricarica mhm poi sovrapposere primer uniformante e idratante mmm con forme insieme con delle pagliuzze illuminazioni con delle belle che bello messo anche come base per il trucco che dà quella luminosità guarda che bello che bellezza wow bubble maschera per per il viso per il viso per il viso fa le bolle dopo un po' mmm bellissima bello poi va lasciata in pose e poi risciappata ah ok wow grandi pezze mmm madonna mi prenderei tutta la collezione sì è vero ti lo giuro dorati belle per gli occhi esatto ok 32 pezzi ci sono sì anche la maschera dorata dorata all questa è illuminante però questa qua è sempre una maschera per il viso ah ok poi va risciacuata anche questa va risciacuata anche questa sì esatto wow un zero e d'acquero wow un zero e d'acquero prima volta che sento il d'acquero mhm che ha la profumazione buonissima mmm buonissima quindi abbiamo dei fondotinta che sono 24h esatto uno transfer viso e corpo viso e corpo e poi questi qua sono i blush i blush questo benissimo la cucchiata è in arrivo questa è la più scura come terra 1099 bella mmm bellissima poi questo effetto mi piace molto eh esatto sì perché ti fai direttamente le colorazioni le colorazioni che sono illuminanti esatto per io esatto una volta poi finito il prodotto ti rimane il piattino che può essere usato come portacenero come che è il cenario in ceramica questo ah bello ti rimane poi non butti via la scatola ti rimane il si il fondino in ceramica esatto che carino bello venga però 30€ illuminante illuminante liquido visu dal finish metallico ah sono illuminanti in crema wow è una meraviglia mamma mia è una meraviglia tra l'altro rende tantissimo ne basta veramente poco è bello 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 esatto questo sarebbe la cipria esatto effetto matt ha durato fino a 12 ore sono imbarazzante mi si possa prendere guarda la pelle bella si che è la proprio esatto come si dice copacizzata uniformità bella